Tra i lavori di riqualificazione che prenderanno il via quest'estate, Assessore, c'è una novità e riguarda San Nicolò? Sì, è arrivata finalmente la riqualificazione dell'area verde della scuola Carlofebbo di San Nicolò, un progetto importante, finanziamento regionale di 550 mila euro che in un primo tempo era perso, poi l'abbiamo un attimino recuperato, il progetto esecutivo è arrivato, dunque nei prossimi giorni provvederemo alla validazione e mandarlo in gara d'appalto. Questo è un intervento che a San Nicolò aspettano sinceramente da anni, perché si rivendicano sempre uno spazio verde attrezzato, adeguato a quello che è gli abitanti di San Nicolò, dunque uno spazio che permetterà di riqualificare anche il vecchio edificio scolastico della Carlofebbo, dunque un edificio a servizio della frazione di San Nicolò, ma anche tutta l'area attorno alla scuola Carlofebbo, dunque un progetto importante che nei prossimi mesi vedrà la luce. Con spazi verdi, nuovi parcheggi? Sì, nuovi parcheggi intorno all'anello verde, spazio verde, parco giochi per i bambini, riqualificazione messa a norma dalla scuola perché lì fu chiusa e attualmente ancora chiusa per il discorso del terremoto del 2009, dunque verrà adeguata anche la struttura scolastica, poi l'edificio sarà a servizio di San Nicolò, vedremo insieme al comitato di frazione di San Nicolò e come destinarlo a quelle importanti strutture per San Nicolò. Siamo in cardappalda anche per la riqualificazione di tutta Colle Parco, sono 1 milione e 200 mila euro da spendere a Colle Parco, con la riqualificazione degli imbianti sportivi, una pista ciclopedonale, molti attraversamenti pedonali su quella zona.